Fumo di sigaretta, tosse persistente, fatica a respirare, età intorno ai 40 anni. Sono questi i fattori di rischio principali per la BPCO, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una delle malattie respiratorie più diffuse. Sono sintomi da non trascurare, al contrario i medici consigliano di iniziare subito una terapia per evitare crisi gravi e ricoveri in ospedale. Il paziente viene guidato da quanto il sintomo gli impedisce di vivere bene e di star bene. Quindi è evidente che la parte iniziale, quando la sintomatologia è scarsa, quando ancora non ha difficoltà nella vita quotidiana, prevede un intervento in cui il medico spiega cosa gli succederà se non si cura. Quindi l'aderenza è importante sottolinearla e promuoverla, soprattutto nella fase in cui il paziente ha meno propensione a prendere il farmaco perché ancora non si sente male. La grande sfida è di anticipare la diagnosi. La diagnosi si fa con la spirometria, con i test di funzionalità respiratoria e l'ideale sarebbe farlo ai segni iniziali della malattia che sono la tosse persistente, la presenza di secrezioni bronchiali e il peggioramento della difficoltà respiratoria, la cosiddetta dispnea, unitamente a questo in persone che hanno il fattore di rischio che prevalentemente è ancora purtroppo il fumo. Il paziente come il PCO ha una storia di fumo, il fumo è la causa principale, per cui ha una storia di sintomi legati al fumo, la tosse con catarro per esempio, che considera la semplice conseguenza del fumo. Così non è avere sintomi, è di per sé un elemento sgradevole e spiacevole, ma è un elemento di rischio di sviluppo della broncopneumopatia cronico-ostruttiva, per cui il paziente si abitua e tollera il sintomo e quando arriva alla fatica a respirare la patologia è già molto evoluta. Riguardo le terapie, è stato recentemente pubblicato il nuovo report GOLD, il documento internazionale più importante per la gestione della BPCO. Secondo le linee guida, occorre iniziare la terapia con due farmaci broncodilatatori, per poi aggiungere, se necessario, anche un farmaco corticosteroide. Disponiamo sostanzialmente di tre classi farmacologiche, due sono broncodilatatori, beta-2 stimolanti anticolinergico e il terzo sono gli steroidi inalatori. Non è una terapia tutto a tutti, come tutte le patologie si cerca di essere crescenti nell'uso dei farmaci, si può arrivare in coloro che hanno sintomi e che hanno riacutizzazioni e una triplice terapia, che ha anche il vantaggio di essere in un unico inalatore. L'arrivo delle triplici ha portato ad un'ottimizzazione dei risultati dell'intervento terapeutico, riducono in particolare gli eventi più gravi, quelli di riacutizzazione, quelli che portano in ospedale per intenderci, ma ottengono anche l'obiettivo a medio termine di ridurre la mortalità, per cui hanno la capacità rispetto ai solo broncodilatatori di aumentare la sopravvivenza dei pazienti con BPCO.